Musica Agli europei Italia bella e vincente, 3 a 0 alla Turchia, la nazionale ritrova l'entusiasmo dei tifosi sugli spalti e nelle piazze e torna il tricolore. Vaccini circolare del ministero AstraZeneca solo agli over 60, speranza da lunedì 40 milioni di italiani in zona bianca, prudenza. Draghi al G7 in Cornovaglia a tenere insieme crescita, sostenibilità dei conti e coesione sociale, oggi il bilaterale con Biden. Giovane rumeno arrestato nel milanese nel suo camion, in Inghilterra furono trovati 39 immigrati vietnamiti morti. Estate in anticipo, al nord previsti più di 30 gradi, spiagge affollate dalla Sardegna al Friuli, da domani alta pressione anche al sud. Serata di addio per Eleonora Bagnato che lascia il teatro dell'Opera di Parigi, un saluto lungo e commovente, presente anche la sua famiglia. L'Etoile al TG1 ha fatto un'esperienza straordinaria, adesso continuo il mio percorso in Italia. Buongiorno dal TG1, è stato un esordio straordinario per l'Italia ai campionati europei di calcio. 3 a 0 alla Turchia e gli azzurri che hanno risvegliato l'entusiasmo per la TG1. e anche la sua famiglia. 5 a 0 alla TG1. 9 a 0 alla Friuli, 2 a 4 a 0 alla TG1. 8 a 0 alla TG1. Grazie a tutti.